Sì, ci siamo. Per la prima volta nella storia il Lazio avrà una legge sul commercio, cancelliamo sei leggi sui vari aspetti della vita del commercio nel Lazio. Ci sarà meno burocrazia, meno bolli, si renderà più semplice aprire un negozio o cambiare la possibilità di vendere prodotti diversi in un negozio senza sempre ricorrere a carte bollate o spese e quindi si semplifica la vita a chi fa commercio e chi vuole entrare nel mondo del commercio. L'avevamo promessa e un'altra promessa mantenuta.